Sì, sabato è una partita importante, dopo la sconfitta di Alcamo che comunque purtroppo ci siamo sorbiti, anche se la prestazione non è stata pessima. Diciamo che è già da tre partite che la squadra comincia a giocare bene, abbiamo raccolto poco, ma penso che i risultati arriveranno. L'importante è lavorare come stiamo facendo. Torno nel mio ambiente che per anni ho frequentato, cercando di svolgere il suo nuovo ruolo che è quello di allenare i portieri. Spero di farlo bene, dare una mano comunque alla società per questo anno lungo e per fare bene soprattutto. La classifica non sorride a livello di punti senza dubbio, però sono convinto che con chiunque giochiamo noi siamo sullo stesso piano, siamo sullo stesso livello. Il campo fino ad oggi magari in parte non l'ha dimostrato, però il gioco, le persone che abbiamo a livello tecnico sono convinto che noi alla fine arriveremo molto molto in alto. Quindi io penso che i problemi sabato avrà sicuramente la capolista a venire a giocare da noi e il campo lo dimostrerà.